siete pronti per il video non ho sentito bene ripetete un po se prendi il bonus io streamerò nudo per un giorno con il cazzo di fuori quindi non mi dovrò mai alzare streamerò nudo un giorno giuro con il cazzo di fuori sperando di non alzarmi spero che non mi capi di alzarmi passa mia madre daniele ma il cazzo di fuori mamma lasciami stare lasciami stare mamma cazzo e chobber questo è un po tossico eh io te lo accetto perché siamo nell'angolo dei meme ma questo è un po tossico vuoi essere sincero è un po tossico wow wow se non mi spingessero si tira cecio cecio geoffra che giocatore qua li ho distrutti eh ceci ho preso sto cazzo beh vieni casselluce pure è andato via chiamata in arrivo da taliglia rispondi coglione e che sei di prima? eh? c'è che perdeva la partita? eh? eh 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 torna a succhiare i cazzi ecco sì ciao ciao signor tons of rocket mi saluti a tuo modo mi amorosa camilla e le camilla camilla il top king ti saluta mi saluti a tuo modo mi amorosa camilla ringrazio innanzitutto il tuo ragazzo tons of rocket dei 14 mesi e ribenvenuto nelle caglie di cane camilla io ti voglio salutare trattamelo bene stai attenta eh come ho messo lo stack la ragazzi forse potrò addirittura ceccare perchè ho l'asso di pic però quando immagino mettiamo così tanto anche su lì c'è 10-10 chiedo che alla fine lo metta no 3-3 contrasto jack 10 non mi ringraziare giusto? no 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 non fare così eh non fare così eh non fare così eh non fare così eh ti ho già capito te voglio il bonus non pensare che che 5 bambine possano soddisfarmi 5 5 simboli 5 simboli 5 simboli della slot possano soddisfarmi eh eh io voglio il bonus oddio eeeh ooooh Onnipresente Di Scammarsionek Qua ragazzi tilta Qua credo che tilti Qua tilta ragazzi Qua tilta Mi sta a vedere chi la E dice Mamma mia Mamma mia che brutto da vedere Dai le lupo Dai le lupo No Però non sai niente E cazzo è Oh Metta Tutti da dietro Vai Ma come hai fatto Come hai fatto in tutta la macchina a prenderla indietro Ho stoppato Sto fatto Ma che hai stoppato? Che cazzo hai stoppato? Che cazzo hai stoppato? Che cazzo hai stoppato? Signore me lo cacciate? Guarda Entri da cazzo Sta andando in porta Guardate che c'è il gioco Scaricalo Stai zitto Che vuol dire Prova a entrare su rocket Vedi se te lo apri No non posso proprio Mi fa loggare su steammate Oh dammi un po' i numeri del bovi No no tu apri rocket No apri le steam Vic sistema i server un po' Oh comunque io sono loggato Faccio una mogos Ma anch'io ero loggato Ah slot lo rilogga Westcog Ah ok Entra E' come si vince la rocket lì Guardate capito? Fuori in par Signora eu Signore euforia C'è anche il signore ammoni in chat Che è il suo amore Letteramente Lui ogni volta Mi dice di andare a questa slot Ogni volta dice Vaglio fuori fuori Ogni volta E lei lo schiamma così? A pezzo di me Eh non si fa così Non ci si comporta così Oh grazie 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 Un secondo Sarò con te Non so che mi mandare Abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna al campione Capone Si però più che altro so tipo calde fuori e dentro sono fredde come se non si sono cotto il bene ce l'ho molto meno capito? che cazzo è? ma non so più a caccia di patate guarda manca a caccia di patate se è buono ma come sei così brava? ma come sei così brava? no che caccia di patate che timing io sto dicendo solo che i soldi non servono a rendervi felici questo è il mio concetto i soldi non vi rendono felici questo è il mio concetto finisce lì i soldi servono sono da crudissimo io sono d'accordo con te cioè se tu mi dici adesso come sei adesso un milione sul conto banca o zero a mani bassa dico un milione ma quello che sto cercando di dire io è che se tu sei triste non pensare che un milione di euro sul conto banca ti renda felice questa è la cosa è da questo quello che volevo dire in mezzo ok è un bel hit almeno non so quanto sia ma che sia un bel hit oddio sopra si ragazzi GL basta che vinciamo un torrentino e va bene così è troppo good per non farlo GL pure la labella a sto 10 a sto k a sto 10 ma com'è possibile che ce lo sia il du ma com'è possibile com'è possibile chat chat il vostro cano vi mando bacione e ci vediamo non so quando ciao ragazzi